Musica Amici di Tele Molise e di Viaggio in Molise, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi il nostro viaggio si ferma a Montagano in occasione della 17esima edizione della Festa del Pomodoro. Un appuntamento che ormai è diventato fisso, che ogni anno si ripete migliorandosi sempre di più, anno dopo anno è sempre più partecipato. Questa sera è la serata di apertura di questa festa e in questa serata lo show cooking di un pizzaiolo che ha realizzato le pizze ovviamente con il pomodoro di Montagano. Ma per non perdere questo appuntamento di Viaggio in Molise vi invitiamo a restare in nostra compagnia. Musica Giuseppe Tullo, sindaco di Montagano. Oggi l'apertura della Festa del Pomodoro, un evento ormai consolidato, giunto alla 17esima edizione. Sì, 17esima edizione. Quest'anno abbiamo pensato di tenere la festa su due giornate, 25 e 26 agosto. Oggi 25 agosto diamo il là alla Festa del Pomodoro e con l'occasione ci sarà anche la presentazione della squadra del GSD Montagano, il gruppo sportivo locale. Domani, sabato, ci sarà poi il consueto convegno che quest'anno avrà come tema centrale un argomento sicuramente molto interessante legato ai distretti del cibo e alle opportunità di sviluppo che questi possono dare al territorio. E poi a seguire la consueta sagra a base di prodotti locali. Sono due giorni intensi, importanti, che rappresentano un po' l'apice dell'estate montaganese. È sempre un bel risultato quello di dare continuità agli eventi. 17esima edizione significa che il lavoro fatto negli anni è stato notevole e ha portato dei frutti importanti. Noi come amministrazione abbiamo dato continuità a questa manifestazione e credo l'abbiamo anche arricchita e in qualche modo abbiamo anche investito tanto su di essa perché potesse crescere e diventare sempre più importante. Anche quest'anno quindi non manca lo show cooking, la scelta è caduta appunto sulla pizza, uno dei prodotti gastronomici che più si lega tra l'altro con il pomodoro. Sì, perché poi il senso di questa festa è promuovere e rappresentare una vetrina per il pomodoro di Montagano, il nostro prodotto d'eccellenza. Ovviamente cerchiamo di farlo in tutti i modi possibili. Quest'anno c'è il pizzaiolo Marius, molto noto, che si cimenta con la preparazione di pizze fatte tutte con prodotti del territorio. Non solo pomodoro ma anche gli altri ingredienti necessari per la preparazione. Ripeto, è un modo per valorizzare il prodotto, farlo conoscere sempre a più persone e cercare di stimolare una sempre migliore produzione e promozione di questa eccellenza. Ecco, come anticipava anche lei, l'amministrazione da anni porta avanti la politica della valorizzazione del prodotto appunto del pomodoro, anche con lo stanziamento di apposite risorse in bilancio, organizzando iniziative come questa e offrendo comunque continuo supporto. Credo di poter dire che l'amministrazione abbia fatto la sua parte in maniera, devo dire, precisa e attenta, come sempre. Ma lo ha fatto comunque potendo contare, questo mi fa piacere evidenziarlo, sul lavoro che portano avanti da anni anche persone che si sono dedicate a questo argomento, a questa tematica in maniera, devo dire, genuina, volontaria e che lo fanno per passione. Mi riferisco in particolare ai componenti della commissione DECO, che è la commissione comunale che sovrintende al marchio comunale DECO del prodotto, composta da persone che lavorano da anni, devo dire, con molto impegno. Io credo che l'amministrazione per loro abbia rappresentato comunque un riferimento costante di un interlocutore presente, attento e che ha cercato di mettere a disposizione tutto l'occorrente perché il lavoro intrapreso e l'obiettivo della valorizzazione vera, piena del prodotto, possa essere raggiunto. Per Montagano il pomodoro è un'eccellenza e ovviamente si lega indissolubilmente al territorio. Sì, un prodotto del territorio. Tra l'altro uno dei lavori fatti da questa amministrazione, sempre con la stretta collaborazione della commissione, è stato quello, per esempio, di acquisire delle risultanze scientificamente fondate circa la specificità del prodotto pomodoro di Montagano. Oggi queste evidenze ci sono, quindi abbiamo, come dire, delle prove scientificamente fondate e certificate che il prodotto pomodoro di Montagano rappresenta effettivamente un unicum nel panorama dei prodotti di questo territorio, sia dal punto di vista delle proprietà organolettiche, sia dal punto di vista appunto della qualità intrinseca del prodotto. Quindi, come dire, l'evidenza scientifica supporta quello che noi ovviamente sapevamo da tempo, ossia che è un prodotto sicuramente eccezionale, rappresenta il prodotto per eccellenza del nostro territorio. L'obiettivo, ripeto, è quello di far sì che piano piano, cosa che già si sta facendo, devo dire in qualche caso con buoni risultati, che esca dai confini locali, regionali, perché è un prodotto che sicuramente può ritagliarsi un mercato, anche a livello nazionale, non solo, anche oltre, perché oggi la qualità, come dire, viene apprezzata e viene sicuramente, come dire, appetibile, rappresenta un prodotto appetibile anche per mercati lontani. Quindi lavoriamo in quella direzione e credo che porteremo a casa buoni risultati. La giornata di oggi è una giornata per aprire la festa del pomodoro, poi effettivamente, come abbiamo anticipato prima, nella seconda giornata è previsto un convegno anche per far capire i benefici e quelle che sono le proprietà del pomodoro di Montagano. Sì, il format della festa ricalca un po' quello che è stato anche negli anni passati. Quest'anno, ripeto, è strutturato su due giorni, però domani ci sarà comunque che il secondo giorno, l'appuntamento, quello oramai consueto, come dicevo anche prima, del convegno della tavola rotonda, chiamiamola come vogliamo, ma il discorso è quello di mettere insieme un gruppo di relatori costituiti da esperti del settore, da persone che possono offrire al tavolo quelle che sono le loro esperienze dal punto di vista professionale e non solo. Domani il tema, dicevo, è quello dei distretti del cibo. È un'opportunità interessante perché, tra l'altro, la Regione Molise ha recentemente legiferato in materia, quindi c'è una legge regionale emanata pochi anni fa, c'è anche un regolamento attuativo che poi è stato adottato per l'attuazione di queste norme e quindi è un tema sicuramente di attualità e che rappresenta un'occasione concreta di sviluppo. Noi domani portiamo al tavolo gli esempi di altri distretti che si sono costituiti, già realizzati qua nella Regione Molise, parlo di quello dell'oliva, di quello del miele, quindi ci sono esempi tangibili di come iniziative di questo tipo siano state già realizzate e abbiano già portato dei frutti importanti, quindi siamo fiduciosi che anche noi possiamo intraprendere con l'ausilio ovviamente di tutti, dei produttori, del paese, della comunità, delle istituzioni, possiamo anche noi, ripeto, intraprendere quel percorso e portare al raggiungimento di obiettivi importanti.